Allora, Shot Lab è una rassegna di brevi monologhi e corti teatrali che parte dai ragazzi che hanno frequentato i miei laboratori in questi tanti anni per in realtà estenderci perché ognuno ha coinvolto anche altri attori, altre compagnie che non conoscevo e che per fortuna sto conoscendo e sono delle proposte a volte anche molto originali e particolari ma completamente scritte per l'occasione quindi sono tutti i monologhi o corti teatrali che sono stati messi su apposta per partecipare a questa manifestazione manifestazione che ho organizzato insieme a Susana Elsawi, Daniele Coscarella che sta qui vicino a me e Gianni Corsi fedeli sodali di questa avventura incredibile. Quelli che vedete dietro di me sono parte di questo cast perché noi parliamo di circa 90 tra attori, autori e registi che stanno passando su questo palco qui al Teatro Cometa Off di Roma Beh dunque ci sono 25 corti e 30 monologhi di Shot Lab con ogni due giorni finalisti monologhi e corti in finale che si esibiranno il 6 e il 7 febbraio quindi insomma una rassegna di per sé abbastanza lunga che aveva comunque come obiettivo quello di dare la possibilità di sperimentare un progetto noi l'abbiamo chiamato uno start up teatrale senza l'ansia del risultato benché poi ci sia una competizione quindi una gara però proprio con l'obiettivo di voler provare qualcosa Shot Lab nasce proprio come una palestra dove tutti possono sperimentare la propria idea poi che cosa succederà non si sa non è dato a sapersi ma qualcosa succederà insomma visto anche il passaparola e il successo della lo possiamo insomma non si dice non si dice mai bravo però secondo me sta avendo un successo e un passaparola tale che forse insomma c'è bisogno anche proprio di questo entusiasmo giusto Massi? Sì credo che quello che ha detto Daniele è giusto sottolineiamo il fatto che a differenza di molte rassegne a cui ho partecipato in questi 20 anni i vincitori di questa rassegna vincono del denaro suonante che useranno per produrre lo spettacolo per far passare dal corto a lungo lo spettacolo detto questo vorremmo parlare della parte più sessuale della rassegna con Gianni Corsi A parte che hanno detto già tutto loro io aggiungo solamente che è anche bello il fatto che Massimiliano è coinvolto nella giuria i suoi vecchi amici anche artistici insomma che hanno fatto un percorso un pezzo di percorso artistico insieme a lui e che quindi vengono coinvolti personaggi come Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Furio Andreotti, Paola Cortellesi che partecipano in quanto giuria e che in qualche modo prendono questa manifestazione come nutrimento per sé ma danno anche magari qualche consiglio e non solo un punto di contatto ai giovani che cercano di allargare le proprie conoscenze nel mondo dello spettacolo A questo punto mi piacerebbe far parlare i ragazzi, gli artisti che partecipano sono tutti una ventina d'anni meno di me quindi li odio per questo e comincerei da Adriano Russo Bene, delle mie scarpe viola si può intuire che io sono l'outsider perché di fatto io sono un musicista però mi inserisco bene in questo contesto perché accompagnerò e sarò comunque parte integrante della scena di uno spettacolo di un monologo questa sera La commissione delle arti in queste circostanze è enorme, personalmente mi arricchisce molto quindi ringrazio di nuovo insomma di questa possibilità Di fianco a lui c'è Alessia Capua Eccomi, io sono molto contenta di partecipare a questa rassegna teatrale sono anche molto emozionata perché in realtà stasera dobbiamo ancora andare in scena Vediamo quello che viene fuori, è bello che ci sia data questa occasione perché i giovani in Italia in questo periodo non ne hanno tante di occasioni però lui ci crede e ci crediamo anche noi Salvatore Lanza Sì, Salvatore Lanza Nato il... no, anche io ho ricercato Infatti, cioè sono felicissimo di essere... di far parte di questo mondo di Massimiliano Bruno che ci rende tutti più bravi secondo me e speranzosi che questo sia il nostro lavoro Dì il mio nome Giacomo Bottoni Grazie Sì, ex hipster Ex barbuto No, beh, la possibilità che ci viene data è immensa perché purtroppo non è un momento semplice per produrre spettacoli propri o per avere degli spazi dove si può fare quello che vogliamo fare ossia questo mestiere che sia dal regista all'attore all'autore Lucia Torre, il lavoro comunque del regista o dell'attore è un lavoro molto artistico e molti non danno peso o non credono al fatto di poter lavorare così però loro ti aiutano e ti spronano anche quindi grazie Massi Fiera Saladino Secondo me la cosa più bella di questa rassegna, di quest'idea di Massimiliano è il fatto di stravolgere un po' la logica del mercato quindi il fatto di riuscire a promuoverci attraverso questo nuovo canale di comunicazione che sia il web, perché siamo su Facebook con mille video ogni sera della rassegna e soprattutto c'è una giuria comunque di qualità che giudicherà i nostri lavori e poi una cosa che mi ricordo che disse Max al laboratorio che mi è rimasta molto dentro fate voi, quindi mettiamoci in gioco capiamo cosa sappiamo scrivere su di noi quindi come riusciamo a mettere in risalto anche le nostre qualità artistiche sulla nostra scrittura e sulla nostra regia Andrea, io ringrazio Massi e tutti gli altri per questa opportunità perché è una grande opportunità e poi ognuno la prende come vuole chi per vincere o chi per sperimentare per sperimentarsi su cose che non ha mai affrontato quindi è una bella iniziativa Federico De Luca un discorso che ci fece Massimiliano due anni fa era il mio primo laboratorio con lui, proprio i miei inizi e la frase con cui lui ci accolse fu questo non è un lavoro da... non è come una corsa dei cento metri è una maratona e chi di voi riuscirà ad arrivare in fondo a poter fare questo come lavoro sarà colui il quale ogni singolo giorno farà quel qualcosina in più rispetto a un altro che preferisce non fare nulla e rilassarsi colui che continuerà a prendere con professionalità e con rispetto non solo il proprio lavoro ma le persone che ha di fronte a cui devono arrivare delle emozioni era un discorso bellissimo e ora passo la parola a Manuela arrivata per ultima e quindi ti tocca chiedere a te Emanuela Caruso Io sono di Roma, ho lavorato a Roma e poi mi sono trasferita a Milano perché ragazzi a Milano mi hanno preso in accademia cioè io ci ho provato un po' ovunque mi hanno preso lì e quindi poter tornare a casa e trovare di nuovo questa familiarità che nulla toglie all'estrema professionalità è bello cioè non sono... è bellissimo poterlo dire in verità quindi grazie Io quando faccio questi laboratori di fatto non faccio il regista cioè non monto le cose faccio in modo che i ragazzi siano autosufficienti oppure chiedo a qualcuno di montare di fare la regia e do dei consigli di fatto non mi metto a fare il regista il regista lo faccio magari al cinema o al teatro se faccio uno spettacolo quando insieme a Valeria Prea a Paola Cortellesi a Claudio Santamaria tutti quelli con cui ho iniziato a lavorare ho cominciato a lavorare in piccoli teatrini come questo o come questo ancora non c'era però io ho cominciato dal teatro Colosseo al teatro Argoa al teatro dei Satiri al teatro La Scaletta che non esiste più piccoli teatri romani dove c'erano 70-80 spettatori in scena una volta con la Cortellesi erano soltanto 8 e ci hanno detto bisogna fare lo spettacolo lo stesso e lì ho imparato l'importanza di fare comunque spettacolo anche se ci sono 8 spettatori e l'idea è che lì io me la dovevo cavare da solo il mio lavoro principale era quello di scrivere poi ho fatto anche l'attore perché ogni tanto ci mancava qualcuno e facevo le parti oppure perché mi divertivo poi ho fatto il regista perché questo purtroppo è un paese dove per farti chiamare autore devi fare la regia di qualcosa quindi come nei film l'autore è il regista non è lo sceneggiatore tutti conoscono chi ha diretto la grande bellezza nessuno sa chi l'ha scritto quello che continuano a comunicarmi questi ragazzi adesso che ho 45 anni che questi laboratori li faccio da 15 anni è questa grande voglia di fare quello step quel passaggio che alla loro età è molto più veloce e vistoso rispetto a quelli che posso fare io alla mia età quindi per me sono benzina cioè vedere i loro lavori è benzina è suggerimento di creatività io continuo ad esserci tutto questo lo facciamo auto rifocillandoci con i nostri soldini nel senso che non abbiamo né il comune né la provincia né la regione né lo stato che ci dà una lira ma lo facciamo tutto quanto con 200 euro di remo a testaccio che è la pizzeria che ci ha pagato le locandine e il resto questi signori che ci mettono la buona volontà è l'incasso del pubblico quindi facciamo come si faceva tanti secoli fa cioè i teatranti vanno in scena con un cappello e se qualcuno viene a vederli e c'è qualche soldino si va avanti altrimenti l'anno prossimo chiuderemo pare che si vada avanti però perché per fortuna vengono tutte le sere e riempiamo il nostro piccolo teatro allora Short Lab va in scena tutte le sere tranne i lunedì alle ore 20 e 45 al teatro della Cometa in via Luca della Robbia 47 a Roma fino al 7 di febbraio la domenica alle 18 perché domenica uno si vede la partita viene a Short Lab e si va a mangiare la pizza in questo quartiere meraviglioso di Roma che è testaccio pieno di topi ma meraviglioso grazie